Bene ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Holly Ferranti25 e oggi siamo su Tomb Raider con il mio nuovo Game Hub da provare. Non so se sentirete la mia voce, infatti, se mi sentite mi seguite che è vero. Non so se me lo sentirete bene. Ora incominciamo Tomb Raider, visto che è uscita la Definitive Edition e io volevo fare la... Faresi con il... ...sull Xbox perché sulla... ...la Definitive Edition non la comprerò perché non mi piace. Quindi aspettate che devo mettere i sottotitoli che ho messo, però... Ok, la mia voce stava andando un po' in ritardo. Un esploratore disse che non sono le persone di essere straordinarie. All'infiammato, mi sento più parlare. Ma lei lo muove. Finalmente potevo lasciare il segno. Partirei a vettura. Ma fu la vettura a trovare me. Nei momenti più cubi... Aiuto! Quando la vita ci scorre da partendo. Troviamo qualcosa che ci spinge. Uno stimolo a proseguire. Oh... 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 Ok, questo forse è finito, mi ha fatto l'icona del Salatown, ci sono un grande controllo, quindi volevo dire che ho cominciato questa serie, che per dire a finire, anche così altra, se non mi riuscire a fare insieme, questa serie, vabbè non c'è più a denari di questo, dopo questa qua sto a dare la serie definitiva che... Ehi, ti ha ripremuto un po', qui ci sono dei genitori, qualcuno ci aiuti, Giana, sono qui! Ok, no, niente, non posso parlare, non posso parlare, Square Enix presenta niente, niente, presenta niente Square Enix, oh no, comunque questo gioco è benissimo, Ho già giocato un bel po', ok, l'ho già finito, sì, però volevo farmi dei gameplay, quindi avevo detto, perché non farmi finito Tomb Raider? Tutta questa serie si stituirà Cat Mario, se qualcuno sa come... No, niente, volevo... Cioè, dove siamo finiti? Molto carino un posto Aiuto! Aiuto! Giana! Reyes! Aiuto! Ok, sì, comunque dobbiamo far infuocare quel tizio... Ma che colore? Ok, il video, ok. Ora, cosa è che dobbiamo fare ora? Cosa è che dobbiamo fare? Sì, ok, mi sbagliato, quello che dice dei giovani con Whamlee Vamo parte indietro, io mi dedo anche a cuore delle persone E' veramente una epipédie, mi perdono tutto bene? La sua direzione di tutto. Quanti al posto? Così? Quanti al posto? Un saddle, un Yahoo! Ho stato fatto un bando drawings. Ok, l'ha messo molto bene, sta molto bene, molto bene, un po' più l'occhio, che non è scoperto da venuto. Ok. Ok. No, no, no. Qui c'è stato, oltre c'è? Dove si trova? No, non muori tu, perché è ora che lui la richiamo. Dovevamo prendere. No, stai, non è torta, come si chiama? Vabbè, come si chiama lui? Io mi sono venuta a parlare, mi sono venuta a parlare, mi sono venuta a parlare, sono fuori alzane. Ok, scherzi a parto, continuiamo. Oh no, mi avrà sentita. Oh no, mi sono venuta a parlare. Oh, verta. Ah già, siamo bloccati. Ho già il primo anitma, non già. Suppongo che quello è un esplosivo e noi dobbiamo farlo esplodere. la mia intelligenza è tutta ogni sacco ora quello fa bumbu 3,2,1 ehi! ma io non ho scelto di capire due io non ho scelto ho durato 5 secondi non ho scelto ho scelto 5 secondi questo è pieno guardami non posso tornare indietro? non voglio morire mancati poco molto poco non posso tornare indietro non voglio morire c'è guarda qui non voglio morire cioè guardate sulla roccia il fuoco e se vanno esergenzi lo entra meglio ovviamente ma dai potremmo farlo meglio quel pezzo questo qua è un nuovo ecco ora mi sono mi ricordo questo però non mi ricordo bene bene devo trovare il fuoco però fino al fuoco per infiocare il banale non ho avuto il fuoco 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 è il fuoco il fuoco il fuoco il fuoco il fuoco un po' di raffreddore un po' di torse ok ora in fronte stiamo infattando perché siamo dei vandal ok perché così non è una mongolpia potremmo lanciarci ma l'opo perché ora sono così buttatevi in blu lo prendiamo e buttatevi in blu sta buttatevi e dovete risolvere qualcosa però mi sono che non buttatevi avversò degli che non so neanche spiegare che cosa sia quella roba che cattivo potrebbe arrivare qualche seconda di cadena la miglia vabbè vabbè però l'ultimo rimuolo di fattevi te l'ho fatta te l'ho fatta qui non ho fatto niente non ho fatto niente ovviamente la mia intelligenza ma la mia intelligenza così però non mi v bedeutet che mi basta saggiare Sì, io sono qui da saldare, non è scena che mi affronta. Ovviamente non è che mi capite che il bel ritardo è la mia voce come oggi, il mio fondamento non è degno di Tom Bradley. Oggi tipo, questo è il senso che non mi dico ovviamente. Ora ho capito. Ora affrontiamo il baricotto. E poi buttiamo il blu e gli esplosivi esplori. Beh, poi non era poi l'esplosivi esplori, ma... Cioè, si può dire, però l'esplosivi esplori non è poi... E poi vanno da qui. Non è più bella, è più bella. Ora mi hanno tanto pensato che si usa un po' il programma di editing per l'intrazione. Mi ha fatto anche se non puoi, io gli avrei mica cantato. Anche a me che si usate l'antusivo. Sì, è l'antusivo. Quanto fa l'avantiù? C'è quello che mi fa sopra via, sopra dentro? Tu vuoi facciare il numero 7? Il numero di marchi del terremoto? Mi spazio tanto. Mi spazio di dire, non mi dicano più cosa devo dire perché se ti avvicinano, io non mi spazio, non mi spazio. Guardami ma spazio! Non so nemmeno come... Guarda, guarda, la secola era. Non ci vedo neanche più. Non ci vedo, non sento, non vedo. Non ci vedo, non sento e non vedo. Ci vedo, non sento e non riscattano. Guarda di vantaggio! Sei malato. Guarda di vantaggio, ho fatto un video. Non ci vedo, non ci vedo. Non ci vedo, non ci vedo. Mi riesco mai a dire per il video. Non è che non ci vedo, non ci vedo. Però sarà la casa del taglio. Però ci vediamo. No, ci vediamo. No, stai facendo, scusami. Gontro. No. No. Non ci vediamo. No. Non ci vediamo. No, non ci vediamo. Non mi basta, prendo questa avventura. Sto allo stai a capire. Sti pazziati a chi arricchirò il cuore. Io non avevo chi arricchirò il cuore, ma non avevo chi arricchirò il cuore. Beh, sono ucciti e direi che... Che? Che mi sa che il capitolo di oggi l'abbiamo finito. Penso. Ma vediamo questo, sì. Bellissima nozza. Non ho ricordato così, forse avevo avuto la scuola dei trevoli. Beh, troppo forte. Allora guardiamoci il panorama. Ok, direi che è finito qui il capitolo. Se vi è piaciuto meglio mettete mi piace. Mettete mi piace anche la pagina Facebook. Entraverete sempre sotto in descrizione. Per oggi è tutto... Per oggi è tutto... No, dovevo vedere una volta. Lo sto facendo. Per oggi è tutto bello, ragazzi. Non so se senti, non? Non c'è senti da... Ma cosa senti? Grazie.